Avvocato Meola, la quarta commissione ha approvato la consulta giovanile, questo è un progetto importante? Assolutamente, importantissimo anche senza precedenti, devo dire che è stato un bel lavoro come ne sono stati fatti anche altri in quarta commissione che mi onero di presiedere, ha approvato all'unanimità e ora naturalmente dovrà passare in consiglio comunale ed è un progetto importante perché prevede un organismo di rappresentanza di quelle che sono le forze di questa nostra città, di quei giovani appunto che ritengono di poter dare un contributo alla crescita, allo sviluppo, al futuro soprattutto perché loro sono il futuro. Quindi questo regolamento istitutivo della consulta prevede in un primo momento una istituzione della medesima in funzione di una serie, come posso dire, di valutazioni che verranno fatte dal consiglio comunale, ma da qui a breve vi sarà poi un'apertura a tutto il mondo dell'associazionismo giovanile. Per quanto riguarda lo sport avete messo in campo anche un'altra proposta? Mi fa particolarmente piacere che lei me lo chieda perché l'impegno della quarta commissione per l'inclusione, quindi nei confronti dei ragazzi portati all'isabilità, è un impegno costante nel mondo della scuola perché la quarta commissione si interessa specificatamente di pubblica istruzione, è approvato già da svariati messi, stiamo attendendo che transiti in consiglio comunale, anzi purtroppo si è trattato di un ritardo veramente spiacevole, fino ad oggi una norma che prevede la gratuità per la frequentazione delle palestre annesse alle scuole, per quelle associazioni che pratichino attività sportiva, nelle quali siano convolte anche ragazzi portatori di disabilità. Questa è un'altra norma molto molto importante. Io vorrei dire che in realtà in questa commissione in particolare si lavora, si lavora bene anche, a parte forse un solo deprecabile episodio che si è verificato, ma insomma che è stato ampiamente superato, e al di là di tutto, purtroppo a fronte di questo lavoro, ecco, vi è chi forse questo lavoro non l'apprezza, perché dimostra come in consiglio comunale si può lavorare al di là neppure delle ideologie, delle contrapposizioni, viceversa c'è chi evidentemente ritiene che anche questa esperienza sia opportuno che finisca, si finisca al più presto, ecco, e quindi quest'isola diciamo in qualche misura felice, chiamiamola felice in termini di operatività, ecco, di risultati e di efficacia, rischia di essere inficiata, cancellata, ecco, da quelle che sono delle brutte polemiche a cui sto assistendo in questi giorni, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, viceversa no, invece i risultati sino oggi di questi tre anni, quasi tre anni, due anni e mezzo, insomma, di attività sono molto positivi.